E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto, io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning With Crypto, l'appuntamento che ci accompagna dal venerdì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte, andremo a commentare i mercati e soprattutto andremo a verificare quello che sta accadendo sugli ETF perché potrebbe esserci un allarme ETF, lo capiremo tra poco, ma come sempre bene di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento, e se siete nuovi ricordate di iscrivervi con il clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, insomma lo sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in un mercato che si muove alla velocità della luce come questo e basta, date ovviamente un'occhiata ai link che trovate questo in descrizione con i principali sconti fee del settore che aiutano il canale a poter riportare questi contenuti tutti i giorni e noi partiamo, partiamo dalla bomba che ha sganciato ieri Tether perché questa è davvero una grande novità e soprattutto una grande novità anche a livello di tassazione perché lo so che a voi vi piace il discorso tasse perché è stata lanciata a USDT che è una sorta di stable coin over collateralizzata on chain da Tether Gold quindi da Xout. sapete che c'è tutto questo dilemma fondamentalmente nell'ambito delle tasse soprattutto in Italia riguardo quelle che sono le stable coin, se sono degli e-money token o meno e la definizione è un pochettino quella se effettivamente c'è un cambio uno a uno detenendo diciamo quelle che sono le giacenze appunto in dollari fisici potenzialmente c'è molta probabilità che possano essere considerati degli e-money token autorizzati. Ecco in realtà molte persone cosa andavano a fare? Andavano a giocarsela con DAI perché DAI aveva all'interno delle componenti diverse non c'era un potenziale redeem uno a uno con l'euro o con il dollaro e che quindi diciamo era un escamotage. La cosa interessante è proprio questa che si va su una stable coin che è over collateralizzata significa che c'è più collaterale di quello emesso e basata sul doll, sull'oro attraverso la loro coin, scusate un po' di maldicola stamattina, sulla loro appunto già esistente Tether Gold. È molto interessante ragazzi questa roba qua perché apre le porte a una collateralizzazione per creare stable e soprattutto su un asset che ovviamente non è estremamente volatile come l'oro. L'oro rimane più o meno lì insomma non è un bitcoin o un ethereum o qualsiasi altra cosa quindi molti sono chiesti ma perché non lo fate con bitcoin? Ve prego non fatelo perché la volatilità all'interno di questo mercato è così eccessiva e troppo eccessiva oggi per poter fare una roba del genere se no si rischia i collassi quindi ve prego queste idee qua lasciate dove le avete pensate ecco non tirate neanche fuori. Quindi per il momento secondo me è un'ottima cosa, è un'ottima rivoluzione, soprattutto potrebbe essere un'ottima agevolazione per il discorso di tassazioni e ripeto non è stata fatta a caso, ok? A mio parere questa roba qua è stata fatta apposta per quello che sta accadendo soprattutto in Europa con il mica. Comunque sia fatemi sapere anche voi cosa mi state chiesto nei commenti. E vediamo alla SEC perché anche la SEC ha un po' di problemini oltre alle approvazioni sul fatto che il loro capo interno dei crypto asset fondamentalmente quelli che vanno a monitorare un po' la cosa oltre a Gary Gensler appunto ha lasciato il lavoro dopo 9 anni quindi si è dimesso, non si sa bene i motivi perché per come insomma però comunque ha fatto i suoi veri motivi, ha fatto la sua fuoriuscita su LinkedIn ringraziando tutti insomma però magari qualcosa sotto si starà muovendo non si sa. In ogni caso arriva un allarme rosso per molti, l'allarme degli ETF perché vedete come effettivamente le ultime tre giornate comprensiva quella di ieri e sono state giornate negative nel senso che sono fuoriusciti 226 milioni il 13, 189 il 14 quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica sono stati fermi e poi 145 nella giornata di ieri. Che cosa significa questo? Che si è invertito il trend dell'accumulazione degli ETF che tutto quello che è stato fatto è stato nullo? No, gli ETF io vi ho già portato un grafico, non ce l'ho qua con me questa volta però se volete ve lo riporterò, lo vedete come ragionano cioè adesso questo è l'ETF su Bitcoin, vedete come effettivamente vadano a comprare, ad avere dei periodi anche di scarico e poi delle ripartenze gli ETF così come sui mercati americani sono trainati dalla domanda e dall'offerta dei loro clienti quindi di conseguenza non è che vanno sempre a comprare e basta, possono vendere ma solitamente tendono ad avere un trend abbastanza definito cioè nel senso hanno dei periodi di stop per poi andare magari a dare degli strappi importanti a rialzo lo abbiamo visto ad esempio con la giornata del 4 e del 5 dove erano stati messi dentro 886 milioni, 488 milioni venivamo nella giornata 48, 48, 105 ok? Il giorno successivo 17, 131, meno 64, meno 200 quindi non hanno un andamento diciamo che può essere valutato in due giorni, in tre giorni di outflow, di inflow ma a volte hanno degli strappi proprio perché vengono fatte le movimentazioni più aggressive in realtà tutte queste liquidazioni dove arrivano poi effettivamente arrivano da ARK che sono 52, 49, 50 milioni in uscita da Grayscale che comunque non è così tanto come anni prima e poi da Fidelity che appunto aveva accumulato molto precedentemente stanno a liquidare 106, 80, 92 BlackRock per il momento o fa 0 o non sta andando a essere negativo vedremo se lo diventerà anche lui magari però ripeto ci vuole un attimino di pazienza sul determinare adesso passiamo ai gainers e ai losers di CoinMarketCap vediamo proprio come in realtà gli è stata la giornata in cui i gainers non ce ne sono stati perché abbiamo Ripple che fa un più 0,43 e poi abbiamo Tether ok? Che bene per la notizia insomma no sto scherzando le stablecoin losers quanti ne vogliamo? vabbè ZK Sync deve trovare la sua dimensione di prezzo perché messa così a poco senso ovviamente come gainers e losers è uscita ieri meno 29, Fanto meno 18 Starknet meno 17 Warcoin meno 16 Coro meno 16 Eternal meno 16 Ingecativo meno 16 lo vedete? un massacro su le altcoin e questo perché io mi sono stufato di dirvi la stessa storia le altcoin non c'è scritto da nessuna parte quale sia il botto ok? non c'è scritto da nessuna parte che vi faranno 100 perle non c'è scritto da nessuna parte questa è roba per vendervi corsi per vendervi roba a gruppi a pagamento eccetera 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 ok? non diventerete ricchi perché avrete cioè nel senso arriviamo al punto della questione questi mercati sono altamente speculativi io voglio passarvi questo concetto perché le religioni all'interno dei mercati io ve lo giuro l'ho scritto anche su Twitter ieri vi fanno male vi faranno malissimo al vostro portafoglio vi lasciate li lasciate lì tutto ok? se voi fatti religiosi con i mercati finanziari lasciate di tutto ma non vale solo per le cripte vale anche per le stocks perché voi potete essere dei grandissimi sostenitori di Tesla perché Tesla è il mio feticio benissimo se va male li lasciate di tutto quindi gli asset sono trainati principalmente sì da dei fondamentali ma soprattutto a livello di prezzo da delle aspettative da delle diciamo speculazioni ok? se voi andate a vedere i valori negli stock market giusto per divagare un secondo ma credo possa esservi d'aiuto se voi andate a vedere negli stock market quello che è il vero valore intrinseco dell'azienda e quello che è il valore di mercato dell'azienda voi vedrete che tantissime aziende hanno i moltiplicatori 10, 20, 30 volte quello che valgono ok? a livello di prezzo e vi chiedete ma com'è possibile che non so Ferrari ad esempio è una di queste ok? ha una valutazione che è non so 15 volte quella che è quella dell'azienda perché l'aspettativa di mercato si aspetta un valore più elevato perché il mercato prezza diversamente perché la speculazione fa parte del mercato però voi non potete farne una religione su bitcoin su che ne so Solana che ne so Atom BNB e tutto quello che volete voi dovete gestire gli asset in una maniera bilanciata se non lo fate vi fate male ve lo assicuro se vi va bene vi andate a deculo ok? perché ovviamente io adesso potrei prendere non lo so 5k leva 100 su bitcoin long e short o dove volete se sono bravo ho fatto 100k se sbaglio molto probabilmente ne perdo tutti però non è bravura lì è fare i giocatori d'azzardo e bitcoin per il momento sta comunque andando a riassorbire le sue dip tornando a noi nella zona di 64,5 di questa notte è ritornata la zona di 65,7 66 mila dollari dopo che ieri in realtà era andato su fino ai 67,2 quindi si sta continuando a fare questo downtrend giornaliero potrebbe anche andare a determinare una sorta di bottom in questa zona e magari recuperare di nuovo 68 69 sarebbe un po' di respiro soprattutto per le altcoin altcoin che è inutile che vi dica che siano massacrate e non serve che vi faccia vedere i grafici delle altcoin vi basta che vi faccia vedere questo della dominance dove vedete una dominance che va to the moon alle stelle 56,15 con spike a 56,6 e questo vi fa proprio capire dove stanno andando i soldi stanno fuoriuscendo dalle altcoin o meglio stanno andando a confluire completamente all'interno del settore bitcoin o comunque uscendo dal mercato questa è la fotografia che ci dà questa chart ok tutto qui nulla di più nulla di meno in ogni caso appunto ripeto ancora una volta su bitcoin bisognerà avere conferma e eventualmente recupero di queste zone per poter respirare anche sulle altcoin siamo comunque in un momento molto complesso per le alt mi rendo conto che molti vogliono fare i buy the dip potete farle potete iniziare a fare le cose se le volete fare però ricordatevi sempre che il mercato lo decide questo qui ok il signor bitcoin non la vostra altcoin bene quindi di conseguenza valutate sempre sulla base della stabilità di prezzo di bitcoin soprattutto se andate a lavorare su asset più speculativi detto questo ragazzi fatemi sapere anche voi cosa pensate sotto nei commenti ah no ah no ah no un'ultima cosa un'ultima cosa che volevo farvi vedere ieri proprio il fatto di come questa candela luna che è andata a pescare i 64 e 4 sia andata a liquidare parecchie posizioni abbia anche resettato un pochettino quello che è l'open interest quindi potrebbe anche per questo essere considerato probabilmente con qualche con qualche diciamo probabilità in più un bottom di mercato proprio 64 e 5 insomma però vedremo 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 ancora presto ok vi devo dare questo elemento in più fatemi sapere anche voi cosa mi è stato qui sotto i commenti ditemi la vostra lasciatemi un like iscrivetevi al canale se ha fatto piacere questo contenuto date un'occhiata ai link che trovate qui sotto in descrizione noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti